Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti. Di nuovo io sono sorpresa dalla vostra presenza qui alla mattina alle 9 della domenica per ascoltare le nostre chiacchiere. Sapete tutti che sarete premiati con caffè e sbrizolona, quindi non so se questo è l'incentivo, ma grazie e complimenti. Meritano in particolare un applauso questi ragazzi che si sono alzati alle 4 del mattino per venire a sentirci, io glielo farei perché veramente... Anche lui, madonna, veramente bravissimi. Allora, veniamo alla nostra rassegna stampa. La prima notizia di cui vi volevo parlare chiama in causa il dottor Gabriele Bernardini. Vieni qua con noi. Penso che molti di voi lo seguiate sui social, è una delle poche voci assolutamente attendibili in fatto di dieta. Io lo ascolto poco, come potete vedere, però credo che e so che lui dice tante cose vere e giuste. E quindi in mezzo a tanta confusione che c'è, a centomila diete fantasiose che girano non solo sul web ma tra libri, televisione eccetera, veramente è importante avere un punto di riferimento serio e lui sicuramente lo è. Gabriele Bernardini, cercatelo, è su Facebook, è su Instagram. Non hai ancora il canale YouTube? No, YouTube no. No, vabbè, insomma. Arriverà anche lì. Eh? Eh? Su Tinder non lo so, non vogliamo saperlo. Dunque, Gabriele, è uscita un'altra nuova notizia. Ogni giorno arrivano tante notizie su come dovremmo mangiare, no? Se uno dovesse seguire tutte queste notizie c'è da impazzire. Sappiamo che i cibi freschi in linea di massima possono essere meglio del piatto pronto già, diciamo, come dire, non so se si possono dire sì, tipo il quattro salti in padella per dire, no? Ecco. Però oggi è uscito questo studio che dimostra come i prodotti ultraprocessati, cioè molto lavorati, proprio aumentano moltissimo, fanno ingrassare molto di più. Allora, io non li uso molto, quasi mai, però vabbè, dici. Una premessa. La parola ultraprocessato legata all'industria, no? Per me è un pochino poco senso, nutrizionalmente. Ultraprocessato è anche la lasagna della nonna, è ultraprocessata, ok? Parlare in maniera negativa degli alimenti industriali per forza non lo trovo molto corretto. Detto questo, lo studio mette a confronto due diete, una fatta con alimenti, chiamiamoli, ultraprocessati, però industriali. Non c'è la dieta della nonna con gli alimenti ultraprocessati, vabbè, ci sarebbe stata bene. E un'altra dieta con alimenti chiamati freschi, non processati, semplici, per dire pasta, pane, legumi, semplicemente ricette semplici, diciamo così. E mette in evidenza che le persone che hanno seguito la dieta con gli alimenti più processati sono aumentate di peso in maniera significativa, non tanto di più, ma comunque un pochino di più in maniera significativa. E spiega la cosa semplicemente di base il perché, lo sapete che il perché, alla domanda perché si può rispondere in tanti modi. Perché la dieta con i cibi ultraprocessati fa ingrassare di più? Perché ci fa introdurre più calorie? Perché da lì non si scappa, si ingrassa perché si mangiano più, si introduce più energia. Anche se oggi pare che le calorie non siano più di moda e non bisogna più considerarle. E invece si mangia di più, semplicemente. Ma perché si mangia di più? Allora, perché questi cibi, questi alimenti, sfruttano un pochino la nostra storia evolutiva. Noi nasciamo cacciatori, raccoglitori. Dobbiamo mantenere il peso entro un certo range. Non dimagrire troppo e non ingrassare troppo. Se dimagriamo troppo, ovviamente non abbiamo nutrienti per sopravvivere. Se ingrassiamo troppo, i predatori siamo lenti, non possiamo scappare e i predatori ci acchiappano. Si è quindi evoluto un meccanismo che tendeva a mantenere il peso in un range ideale. E questo è legato a tutta una serie di circuiti cerebrali e sensori periferici. Quindi noi quando mangiamo un certo cibo, il nostro intestino, il nostro stomaco ha dei sensori che mandano segnali al cervello e ci dicono fermati. Perché il rubinetto è sempre aperto. Noi, proprio per la nostra storia evolutiva, il nostro cervello ci dice sempre mangia. Perché hai bisogno di calorie. Noi siamo diversi dagli uomini del neolitico. e abbiamo sempre necessità, il nostro cervello ci dice sempre di mangiare. Quindi questi segnali però arrivano dei segnali, detti segnali di sazietà, che possono essere a breve termine o a lungo termine. La leptina per esempio è un segnale a lungo termine. Quando ingrassiamo, quando aumenta il grasso corporeo, si produce più leptina, che è un ormone che arriva al cervello e dice ai recettori del cervello fermati, smetti di mangiare e aumenta l'attività fisica. E viceversa. Tutti questi segnali si integrano in una serie di complessi meccanismi. Ora, gli alimenti molto ricchi, quelli appunto chiamati ultraprocessati, molto ricchi di grassi, sale e zuccheri, carboidrati diciamo, stimolano molto questi centri, i nostri centri della fame. Perché sono alimenti, sono nutrienti molto energetici. Il sale verosimilmente deriva dal fatto che ai tempi avevamo bisogno di ristabilire l'equilibrio dei sali minerali, quindi abbiamo voglia di sale per questo motivo, per mantenere anche l'omeostasi salina del nostro corpo. E grassi e carboidrati, è chiaro, sono nutrienti energetici e noi abbiamo bisogno di energia fondamentalmente. Ve lo ripeto, il nostro cervello ci dice sempre mangia, mangia, mangia. E quindi esistono alimenti processati e creati appositamente dall'industria alimentare, dagli ingegneri del cibo, che fate conto, le semplici e banali patatine fritte sono sale, grassi e zuccheri. Le patate sono zuccheri fondamentalmente, con quintali di sali e quintali di grasso. E poi ci si aggiungono tanto per cambiare i sapori, si aggiungono i vari aromi, e questi alimenti sono irresistibili, nessuno si ferma a mezzo sacchetto di patatine. Voglio vedere chi è che si ferma a mezzo sacchetto. E quindi ci porta a mangiare di più, perché noi siamo fatti così, semplicemente. Ma questo non significa che le ricette della nonna non siano altrettanto stimolanti questo circuito cerebrale. Eh, in effetti, anche le lasagne della nonna è un po' difficile fermarsi. Non è quello. Grazie mille, Gabriele. Volevi sentire... Nel frattempo vedo che è arrivato il professor Vines, perciò facciamo un cambio di ospiti. Le migliori trasmissioni di televisione. Eh, già. Allora, abbiamo qua il professor Vines accanto a me e tu chiami... Il professor Mandrioli. Buongiorno, buongiorno, ben svegliati, grazie di questo risveglio per noi. Vai tu. Il professor Mandrioli insegna genetica all'Università di Modena e Reggio Emilia, però almeno dalla sua attività su Facebook e dalla conoscenza personale so che è molto, molto, molto interessato al futuro dell'agricoltura. Posso usare questo termine molto generale. L'ho invitato perché sono usciti ultimamente alcuni articoli, uno l'ho inviato anche a lui, in cui si parla del modello possibile di utilizzo del territorio. Quindi non è soltanto una questione di il futuro dell'agricoltura, andiamo nei campi, scoltiviamo, eccetera, eccetera. Ma come è possibile utilizzare modelli particolari di sfruttamento del territorio in modo da avere allo stesso tempo, questo è un tema secondo me che ha attraversato come un fil rouge un po' tutto il festival, avere allo stesso tempo produzione agricola sufficiente per la popolazione umana che c'è e ci sarà soprattutto e allo stesso tempo avere una biodiversità tra virgolette sopportabile, sostenibile. Perché, apro la parentesi, la biodiversità la stiamo perdendo e è una perdita, diciamo, quasi inevitabile. Anche soltanto nella nostra presenza umana, il fatto che noi siamo in tanti e saremo sempre di più, non fa altro che diminuire la biodiversità. Ma perdere troppa biodiversità, o meglio, per alcuni perdere biodiversità, ma perdere troppa biodiversità fa male all'ambiente, fa male al pianeta, che ho sentito ieri, giustamente qualcuno dice che al pianeta in fondo dell'essere umano frega abbastanza poco, ma farà senz'altro male anche a noi. Questo approccio, che ha una doppia spiegazione che ci dirà adesso il professor Mandrioli, è molto interessante ma deve essere pianificato con attenzione. Buongiorno, grazie a tutti di essere qui, soprattutto chi si è alzato alle 4, giusto per ribadire. Il problema è complesso, nel senso che, è un dato di fatto che noi stiamo perdendo biodiversità. Io lavoro con tanti anni con gli insetti, il dato di declino degli insetti è assolutamente clamoroso. Noi ci stiamo perdendo ogni anno il 2,5% della biomassa degli insetti. E per cause varie, sicuramente. E tra queste dobbiamo valutare anche l'impatto ovviamente delle produzioni alimentari. E non necessariamente perché c'è un binomio se fai agricoltura, usi insetticidi e quindi uccidi gli insetti. Ma perché ci sono anche già solo il fatto di prendere un territorio e utilizzarlo per produrre alimenti, vuole dire cambiare la biodiversità vegetale che c'è, vuole dire cambiare l'impatto antropico, abbiamo città che si allargano, abbiamo aree protette che sono sempre più frammentate. Quindi ci sono usciti diversi articoli effettivamente in questo periodo che cercano di capire quali potrebbero essere i modelli. E già da ormai una decina di anni si parla di land sharing e land sparing. Land sharing vuole dire cerchiamo di trovare un compromesso tra agricoltura e sostenere la biodiversità. Quindi cerchiamo di capire come possiamo salvare capo e cavoli, diceva la mia nonna. Quindi possiamo salvare entrambe. Dall'altro lato c'è invece chi dice no, questo non è un obiettivo perseguibile, dobbiamo fare quello che si chiama land sharing, cioè decidiamo qual è la vocazione di un luogo. Qui coltiviamo e facciamo un'agricoltura intensiva il più intensiva possibile, qui invece facciamo conservazione totale. Negli ultimi dieci anni fondamentalmente c'è stato una sorta di grandissimo dibattito che oscillava tra i sostenitori di una e dell'altra fazione. E purtroppo in Italia molto spesso il dibattito è polarizzato tra le due soluzioni estreme. Gli articoli che sono usciti anche negli ultimi due settimane, anche scritti da economisti, non solo da biologi, fanno vedere come in realtà entrambi i modelli da soli non siano sostenibili. Nel senso che se io faccio land sharing, cioè voglio tutelare sia le produzioni alimentari che la biodiversità, non andrò a tutelare tutta la biodiversità, andrò a tutelare quella biodiversità che è compatibile con quell'area di produzione. Per fare una nota di colore, io posso anche coltivare tutto quello che voglio facendo land sharing in Bangladesh, ma le tigri non ci stanno fondamentalmente, quindi perderemo la biodiversità più appariscente, probabilmente più grande, specie più evidenti. Per cui ad esempio posso, c'è il problema degli impollinatori, io dico faccio land sharing, tutelo gli impollinatori, sì, ma quelli generalisti, quelli specialisti me li perdo comunque. D'altro canto però se io facessi invece una suddivisione, io dico qui dovrò poi faccio una conservazione integrale, e conservazione integrale comunque vado a creare, a frammentare un habitat e non è che possa poi dire agli insetti tu non uscire da lì perché tu devi stare lì, ci sarà comunque una tendenza a spostarsi e avrò comunque creato dei colli di bottiglia nelle mie popolazioni e non sarà così facile per queste singole popolazioni isolate poi sopravvivere. Quindi che cosa si sta vedendo adesso? Che l'idea è di trovare una soluzione di compromesso tra questi due modelli, cioè quello di creare dei canali di comunicazione, per cui io posso cercare di avere, cioè devo usarle tutte e due, e devo fare una scelta territorio per territorio. Ci sono territori in cui io posso cercare di avere un'agricoltura meno impattante sulla biodiversità e quindi posso avere un obiettivo di line sharing ma non posso creare delle isole, ci deve essere comunque un canale di comunicazione tra questi spazi. Faccio una nota, per interesse personale e preparazione mi sono molto interessato, scusate la ripetizione, a quello che si chiama biogeografia insulare. La biogeografia insulare è una scienza in apparenza relativamente importante perché si parla solo di isole, però se pensate che il concetto di isola vuol dire un parco nazionale è un'isola, una zona protetta all'interno di una grande estensione di coltivazioni è un'isola. La teoria è stata, si è dibattuta per decenni, su facciamo dei parchi nazionali grandi e il resto lo lasciamo, poi diciamo si collega a questo, dei parchi nazionali o delle zone protette molto grandi lasciamo il resto all'uomo oppure facciamo delle zone protette più piccole in modo da poter coprire tutti gli ecosistemi più interessanti. L'arrivo, diciamo, definitivo, quasi definitivo di questa teoria dice che bisogna fare delle zone protette mediamente grandi, ancora una volta in compromesso, però collegati da quelli che si chiamano corridoi ecologici, in modo che tutto il problema dell'isolamento e quindi dell'inbreeding e quindi di perdere di biodiversità, perché le isole inevitabilmente perdono la biodiversità, come ha detto in un famosissimo articolo, è un libro ovviamente, Mercato e Wilson, se si collegano a queste isole è possibile mantenere la biodiversità all'interno delle isole e anche lo scambio genico che è fondamentale per aumentare la biodiversità genica, non soltanto quella del numero delle specie. Scusate, è un po' una delle cose che cerco di diffondere ovunque, questa storia dell'ecologia, evoluzione, impatto dell'uomo, eccetera eccetera. Scusi professore. Perfetto, la cosa che in realtà in molto di questo dibattito si perde è che continuiamo a inseguire soluzioni semplici per problemi che invece sono tutt'altro che semplici, sono problemi complessi e l'idea è di trovare sempre la ricetta magica che vada bene per tutto, che invece non esiste. Un dato di fatto però è che dobbiamo decidere quale soluzione adottare, cominciare ad adottarle anche celeramente, perché io tutte le volte che dico che lavoro con gli insetti, tu non mi dici, beh chi se ne frega, dai se muore qualche zanzara che cosa succede? È peccato che esistano le catene trofiche e una gran parte di queste catene trofiche si basano sugli insetti, quindi se io elimino gli insetti vado a colpire ad esempio anche le popolazioni di reti, di uccelli ed è già quello che vediamo. È un continuo che se ne frega però, cioè c'è stato un dibattito piuttosto vivace e di basso livello a parere molto personale sul fatto che secondo alcuni studi si possono distruggere tutte le specie di zanzara, no, una specie di zanzara, credo forse le desegipi stanno studiando, che diffonde la malaria e altre malattie virali. La malaria non è un virus, tanto per essere chiare. Comunque, il dibattito è ammazziamo tutte le zanzare, chi se ne frega dei ragni, questo è il livello fondamentalmente. Io non sono intervenuto perché poi faccio sempre la figura di colui che... Perché ti è abbastato il panda. Mi è abbastato il panda, è stata una cosa abbastanza... Poi ve la raccontiamo se avanza del tempo quella del panda. Deve avanzare molto tempo. Il dibattito appunto è a questo livello, ma come ho detto, non mi ricordo più o chi me l'ha chiesto anche ieri, ho provato a fare una ricerca sulla perdita, sullo sterminio delle zanzare. Ci sono studi che risalgono anche a 20-30 anni fa in cui si fanno dei ragionamenti che sono anche filosofici su questa perdita di specie. Questo ragionamento del land sharing e land sparing è nient'altro che un momento del nostro ragionamento che la specie umana sta facendo, a livello un pochettino più elevato del mazziamo a zanzare che si fanno fredda dei ragni, su come avere, gli americani dicono, have a cake and eat it, avere la torta e mangiarsela. Cosa impossibile, probabilmente bisognerà avanzare una mezza fetta di torte, basta. Posso collegarmi un attimo? Ieri il professor Paolo Vines dell'Imperial College di Londra, uno dei più importanti epidemiologi europei, ma penso del mondo, raccontava proprio questo tema del win-win, cioè di come possiamo correlarci a questo problema anche di perdita di risorse, ma soprattutto del cambiamento climatico, nello stesso tempo ottenendo dei guadagni per la nostra salute. Questo ormai è un filone che sta diventando importante e di cui dovremmo tener conto. Un tema che è emerso prepotentemente negli ultimi anni è il fatto che la produzione di cibo contribuisce al cambiamento climatico. Probabilmente molti di voi sanno che l'agricoltura nel suo complesso contribuisce per una cifra che va, a seconda delle stime, dall'11 al 30% delle emissioni di gas serra, per esempio metano dagli allevamenti. Quindi quello che è emerso è che noi potremmo, intervenendo sulla produzione di cibo, sia contribuire alla riduzione, alla mitigazione del cambiamento climatico, sia migliorare lo stato di salute della popolazione. Si parla pertanto di produzione lose-lose e win-win. Cosa significa? Lose-lose è la situazione attuale, cioè una produzione di cibo che ha un impatto importante sull'ambiente, sia per il cambiamento climatico, sia per la biodiversità, sia per la carenza d'acqua. La produzione di carne, per esempio, comporta un enorme consumo di acqua rispetto, per esempio, alla coltivazione di legumi. Quindi si potrebbe passare dal lose-lose al win per quanto riguarda l'ambiente, perché una riduzione dei consumi di carne e un aumento dei consumi di verdura, frutta e legumi avrebbe un minore impianto ambientale, compreso il cambiamento climatico. Ma avremmo anche un passaggio dal lose-lose al win per quanto riguarda lo stato di salute della popolazione, perché si stanno accumulando prove sul fatto che una dieta troppo ricca di carne e di cibi ultraprocessati, ne parlavamo prima, ha anche un impatto sulla salute. Ci sono stime veramente impressionanti su quante morti si potrebbero evitare riducendo il consumo di carne e aumentando il consumo di legumi, verdure, frutta e così via. Quindi il passaggio dovrebbe essere da appunto lose-lose al win-win. Questo è uno dei settori su cui si può intervenire non solo per migliorare la salute della popolazione, ma anche per mitigare il cambiamento climatico. Ce ne sono altri, per esempio i trasporti. In generale questa è quella che viene definita la politica dei co-benefici, ovvero intervenendo in determinati settori riusciamo ad ottenere dei benefici sia per la salute sia per l'ambiente. Nel caso dei trasporti i co-benefici sono numerosi perché la riduzione dell'uso delle automobili, l'incentivazione all'uso dei trasporti pubblici, l'incentivazione all'uso della bicicletta, al fatto di camminare, ha una serie di impatti positivi, la prevenzione dell'obesità e quindi del diabete, la riduzione delle malattie cardiovascolari, però anche una riduzione dell'inquinamento atmosferico, quindi anche una prevenzione delle malattie respiratorie, dei tumori del polmone e minori emissioni nell'atmosfera che contribuiscono al cambiamento climatico. Questo va nella direzione di quanto si diceva prima, cioè non c'è una soluzione semplice per problemi complessi. Questa è la tragedia se posso esprimermi in questo modo, del populismo, perché il populismo ritiene che ci siano soluzioni semplici per problemi complessi, oppure è il problema di alcuni tecnocrati che ritengono che con un'unica soluzione tecnica si possa risolvere il problema del cambiamento climatico. Detto francamente, io lavoro anche per il Grantham Institute che si occupa di cambiamento climatico a Londra, non c'è una soluzione semplice o un'unica soluzione. La cattura dell'endride carbonica, per esempio, non è ancora sufficientemente sviluppata da poter costituire una soluzione univoca, dobbiamo affidarci a una molteplicità di interventi e questa idea dei co-benefici mi pare particolarmente attraente perché non solo perché contribuisce a migliorare la salute della popolazione, ma perché possibilmente, ma sarei cauto, può anche consentire un risparmio, ovvero dal punto di vista del calcolo costi-benefici, i benefici sarebbero così grandi da superare anche dal punto di vista economico i costi. Pensiamo alla riduzione delle malattie degenerative, alla prevenzione delle malattie degenerative, all'allungamento della speranza di vita e quindi a una minore spesa sanitaria, un aumento della produttività delle persone e così via. Un aumento, una riduzione complessiva del carico di malattie nella popolazione. Io penso che quello che caratterizza l'attività scientifica è il fatto di essere sempre mossi dal dubbio, dalla prudenza e dalla acquisizione di informazioni e di dati e questo distingue, direi, l'attività scientifica da quella pretesa di avere soluzioni semplici per problemi complessi. A mio avviso il nodo al momento attuale è quello della comunicazione tra scienza e politica, perché c'è una certa sordità dal punto di vista della politica, mancano i canali per questa comunicazione, è necessario produrre periodicamente delle sintesi solide delle acquisizioni scientifiche che vengono poi utilizzate dai politici e sull'ultimo numero, uno degli ultimi numeri di Nature, c'era un articolo molto interessante che prospettava diversi scenari per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico. Lo scenario più positivo era quello in cui vi sia un reale accordo internazionale e delle misure di varia natura, tra cui il passaggio alle energie rinnovabili e così via, comunque un coordinamento internazionale. Lo scenario più negativo è quello che forse assisteremo nelle prossime settimane o mesi, cioè la vittoria dei populisti, perché la vittoria dei populisti significa una chiusura dei canali di comunicazione tra scienza e politica, significa una chiusura nazionalistica, che è esattamente quello che non vogliamo, e una promozione di energie vecchie come il carbone. Sì, se qualcuno dei volontari ci porta un'altra sedia, io vorrei invitare qua, tenendoci i nostri ospiti, anche Luca Carra, direttore di Scienze in Rete, che tra poco, se non sbaglio, al Teatro Bibiena discuterà insieme a Paolo Vineis e Danielo Vadia di questo tema del rapporto tra scienza e democrazia, e penso che lui forse abbia qualcosa da raccontarci su questo argomento. C'è sempre l'improvvisazione qua, scusate, avete visto ieri? che fa parte del gioco. Ieri abbiamo superato noi stessi, va bene. Bene, quindi devo parlare dell'iniziativa. Sì, c'è qualcosa da dire, pensavo che avessi qualcosa da dire. Ma qualcosa, appena appena. Allora, grazie dell'invito. Beh, ne parleremo poi dalle dieci e mezza al Teatro Scientifico Bibiena, con Paolo Vineis, Paola Bonfante e anche degli ospiti stranieri. Niente, è nata una petizione, in modo abbastanza casuale, un paio di mesi fa, da un gruppo di ragazzi ricercatori, tutti e tre stanno all'estero, uno in America e due in Francia, che probabilmente proprio il fatto che stiano all'estero li ha sensibilizzati sul fatto che, guarda caso, in tutti o quasi tutti i parlamenti del mondo, delle democrazie, tutti i parlamenti sono di solito dotati di un ufficio, di un servizio, insomma, di documentazione e comunicazione della scienza. Perché? Perché ormai quasi tutte le leggi su cui si discute e che si devono fare, che riguardino l'agricoltura, la privacy, l'intelligenza artificiale, il consumo di suolo, che peraltro è in discussione proprio in questi giorni o mille altre cose, anche pensate alla TAV, comporta considerazioni di costi benefici, una buona parte di considerazioni che attengono a varie discipline scientifiche. Allora, è vero che questi parlamenti hanno la possibilità di, quello italiano per esempio, di fare audizioni parlamentari con scienziati, ma cosa diversa è avere una struttura stabile, non necessariamente interna, può essere anche esterna, in Svizzera e in Germania è una fondazione esterna, che fa un lavoro continuo di documentazione, consulenza, con dei summary, anche dei panorami, perché poi non sempre c'è la soluzione scientifica a un problema politico. Noi siamo abbastanza contrari a quest'idea che gli scienziati debbano insegnare ai politici cosa fare, perché la scienza è un pezzo della decisione politica e spesso la stessa scienza, su moltissimi argomenti, è abbastanza divisa a certe volte, ci sono delle controversie, però se ci sono all'interno di queste istituzioni, non tanto degli scienziati attivi, ma magari persone che hanno, come loro per esempio, un background scientifico, una formazione scientifica, ma sono o giornalisti, comunicatori, o fanno questo tipo di lavoro, dunque sono anche capaci di spiegare semplicemente e brevemente questi argomenti ai politici, insomma crediamo che questo possa servire. Posso interromperci? Allora, il problema, non so se vale anche all'estero, ma sicuramente in Italia a questo punto, però benissimo, facciamo questa bellissima cosa, subito si scatenano le polemiche su chi ci mettiamo in questa cosa, come si può superare? Gli Stati Uniti hanno messo un negazionista come science advisor del Presidente. Certo, ne abbiamo parlato anche recentemente con l'astronauta, questo Foretti che ci ha tempestato di obiezioni di questo genere, perché l'italiano, non solo medio, ma l'italiano in generale, già quando si parla di Parlamento, di politici, ovviamente dice, mamma mia, adesso voi volete andare, chissà che pasticcio che fanno, però... Certo, certo, ma il rischio c'è, dipende come si riuscirà, infatti non è detto che questa cosa si faccia adesso, ci vorrà del tempo, ci dovrà essere, noi siamo interessati a aprire un dibattito, oltretutto non saremo neanche in grado di offrire una soluzione, però già illustrare quello che avviene nel mondo è interessante. Ora, in questo momento la Gran Bretagna non è proprio un esempio di politica proprio lungimirante con la Brexit, però c'è la tradizione nel Parlamento Britannico di questo ufficio che si chiama POST, il quale funziona così, ha pochissimi dipendenti fissi, sono 4 o 5, tutti gli altri sono dei giovani ricercatori, magari anche abili in questa capacità di comunicare, che vincono delle fellowship pagate dalle charities, quindi dai no profit, potrebbe farlo qui Teleton, AIRC, che peraltro sono tutti aderenti a questa iniziativa che abbiamo lanciato, e far girare un po' di giovani anche in questo tipo di lavoro, cioè ci possono essere dei meccanismi per evitare delle burocratizzazioni di questi uffici e soprattutto delle spartizioni secondo il mai tramontato manuale Cencelli. Quindi insomma, certo il rischio c'è, però direi che allora c'è il rischio per tutto in Italia, come fare qualsiasi cosa comporta un rischio o di infiltrazioni malavitose o di politicizzazione, quindi è una sfida difficile ed è per questo che sarebbe bene che la cosa girasse, se ne parlasse, si tentasse di fare una cosa ben fatta. Prima di dare la parola al pubblico, posso chiederti che rapporto c'è tra queste iniziative e il patto trasversale per la scienza? Allora, nessuno, nel senso che il patto ha firmato il nostro appello e noi ben volentieri abbiamo accettato la loro firma, però non c'è nessun tipo di legame organico. Diciamo che, allora io personalmente apprezzo tutte le iniziative che mettono in gioco e fanno discutere sul rapporto scienza-politica. Noto che ci sono dei tagli diversi, la nostra posizione è proprio quella di non essere troppo assertivi nel voler dire a mo' vi insegniamo noi che cosa dovete fare, però insomma è importante che se ne parli con stili e modi diversi, ecco diciamo così, sono molto diplomatico stamattina. Allora, dai, qualche domanda. Domanda del pubblico, nessuna domanda del pubblico. Ieri ci hanno... Sì, sì, arrivano, arrivano, bisogna scaldare un po'. Volevo fare un'osservazione, una domanda riguardo al... No, 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 si fanno domande. Sì, una domanda. Ripeti la definizione di domanda. No, sì. Ha detto che la scienza deve essere parte del processo di decisione politica. In paesi come mi sembra la Francia, che nonostante le varie scoperte, le varie ricerche, ha messo le somministrazioni omeopatiche nel sistema sanitario nazionale, non è un po' contraddittorio? No, vabbè, certo, ovviamente i preparati omeopatici non hanno nessuna base scientifica, quindi in questo caso la decisione politica, secondo me, non ha tenuto conto del parere della scienza. Molto semplice. Poi, non so se c'è qualcos'altro da dire al riguardo. Beh, è proprio il motivo per fare questo tipo. Peraltro in Francia, nel Parlamento francese, c'è anche un'ulteriore versione di questi famosi uffici della scienza. Lì non sono, e quella è una versione un po' particolare, non ci sono, come dire, specialisti della comunicazione e della mediazione, ma sono proprio parlamentari scienziati. Mi sembra che il presidente o il vicepresidente di questo organismo sia Cedric Villani, che è uno dei più grandi matematici viventi, e quanto all'omeopatia volevo raccontare che la mia ex fidanzata, una volta è andata dall'omeopata, e io non ho potuto, come dire, oppormi, ed è tornata entusiasta, perché appena è entrata in questo ambulatorio, mi ha poi raccontato, e vedendola camminare, questo omeopata ha detto, lei da piccola voleva fare la ballerina. Dico, ha capito tutto di me, non considerando che penso che il 90% delle bambine volevano fare le ballerine. E questo è un po' il meccanismo dell'omeopatia, entra un po' con questi trucchetti. Però pare che dal punto di vista economico, la più grande azienda produttrice di prodotti omeopatici, negli ultimi giorni stia vivendo una crisi notevole, perché forse con rischio, c'è quella situazione di crisi che c'è, magari la gente ha i soldi e preferisce spenderli in atto. Avanti. Dai. Dai ragazzi, vi siete alzati presto. Perché si sono alzati presto, che è un altro. Niente? Ok. Allora Marco, raccontaci la storia dell'omino. La storia dell'omino è la storia della mia vita. Eh, lo so. Volevo finire con un riassunto di quello che sta accadendo nel mondo della paleoantropologia. Un riassunto molto giornalistico, visto che appunto il mio lavoro è quello del giornalista. Negli ultimi, diciamo, due settimane, ci sono state un paio di notizie, tutte da verificare, ovviamente, che però hanno un po' gettato un petardo, se non una bomba, del mondo appunto della paleoantropologia. Una è che la separazione tra noi e gli uomini di Neandertal è avvenuta molto prima di quanto si pensasse. Studiando, hanno studiato in particolare la struttura dei denti in un posto in Spagna, dove hanno trovato qualche decina di scheletri di uomini di Neandertal. o, sì, probabilmente erano uomini di Neandertal. Uno dice, vabbè, in suon fondo, chi se ne frega. Sempre per la settimana. Questa è la mattina di chi se ne frega. Si pensava, fino a qualche tempo fa, che la separazione fosse avvenuta 500.000 anni fa. Invece è avvenuta 800.000 anni fa, cioè 300.000, sarebbe avvenuta, scusate, o 300.000 anni prima. Quali sono le conseguenze di questa scoperta? Sono importanti per quanto riguarda il nostro genoma. Ed è così la storia. Nel genoma degli appartenenti alla specie umana non africani, non africani tra virgolette veri, cioè diciamo quelli al di sotto del Sahara, non esistono geni Neandertaliani. Questo significa che nel genoma di tutti voi, e anche del mio ovviamente, c'è una parte piccola, che va dal 2 al 4%, di geni che appartengono all'uomo di Neandertal. Fra l'altro faccio una parentesi, questa qui è una, diciamo, una rassegna stampa in absenzia, nel senso che ho telefonato, ho visto ieri sera il professor Silvertown che ha fatto... È andato a cena con Darwin, eravamo a cena con Darwin, possiamo fare questa battuta? Esattamente, esattamente. Abbiamo mangiato i prodotti del suo orto e gli ho detto, mi fai un piccolo riassunto di quello che sta accadendo nel mondo della paleantropologia umana? Abbiamo fatto una discussione di qualche minuto e quindi, anche senza il professor Silvertown, è come se fosse qua il nome di tutelare e mi ha spiegato come stanno le cose. Comunque, com'è possibile, si chiedono ai paleantropologi, che in noi ci siano geni dell'uomo di Neandertal? Si diceva, 500.000 anni fa, non è proprio l'altro ieri, ma insomma c'è ancora il tempo perché le due specie, noi, l'uomo di Neandertal è una specie diversa da noi, in molti libri della scuola c'è ancora Homo sapiens neandertalensis, cancellate Sapiens, sono due specie diverse. C'è ancora tempo perché queste due specie riconoscessero nell'altra un partner e quindi ci fosse la possibilità di scambi genici. 800.000 anni sono veramente tanti, tantini, mettiamola così. Quindi, ripeto, magari non è una bomba, è un piccolo petardo, bisogna riuscire a chiarire come è possibile che in 800.000 anni, che insomma da 800.000 anni poi ci sia stato ancora uno scambio di geni tra noi e Neandertal. Figuratevi, cioè quando gli uomini moderni sono usciti dall'Africa 70.000 anni fa, 75.000 anni fa, sono arrivati prima nel Medio Oriente e poi abbiamo fatto un giro un po' strano, poi sono arrivati in Europa circa 45.000 anni fa. In quel periodo hanno avuto delle storie piuttosto losche con gli uomini di Neandertal. Quindi 750.000 anni dopo la separazione tra le specie. È un periodo molto lungo, anche in tempi evoluzionistici che di solito sono parecchio dilatati. Un'altra notizia. E quindi? E quindi non si sa, il problema è che non si sa. E quindi? È un bene, non è un bene per nessuno, non è un male per nessuno, è un bene per noi perché i geni di uomo di Neandertal in noi hanno avuto un aspetto positivo, probabilmente qualcosa che ha a che fare con il sistema immunitario, con la resistenza al freddo, eccetera, eccetera, perché fa più freddo ovviamente in Europa che in Africa. Però è qualcosa da risolvere, è un problema da risolvere. La scienza vive dei problemi da risolvere e quando è uscita questa notizia tutti contenti risolviamo il problema. C'è sempre qualche scettico, ovviamente. Oddio, altri scenari possibili dell'uscita dall'Africa? Oddio, sì, c'è, ok, sì. Secondo me c'è un paio di professori italiani molto bravi, ma molto, molto, molto bravi tra i migliori al mondo, che sono ancora molto scettici perché hanno un altro tipo di scenario. Secondo me sta cambiando anche lui perché, vabbè, l'ultima volta che l'ho sentito ho detto, vabbè, comunque. In ogni caso, senza fare i nomi. L'altra notizia è che hanno scoperto una mandibola in Tibet. Wow! Chi se ne frega! Fermate le macchine! Togliete il presidente del mondo, cioè, salvi... Dai! Dalla prima pagina... Ho detto anche ieri, non fare politica. Non fare politica, scusate, ma è una... Chi era Aristote che c'era l'uomo... Basta, dai! Questa mandibola l'hanno trovata in Tibet ed è una mandibola dell'uomo di Denisova. Che cos'è l'uomo di Denisova? È l'ennesima specie del genere Omo, non è ancora stata descritta per ragioni molto precise dal punto di vista della tassonomia, ma insomma, è una specie del genere Omo che era diffusa in centro dell'Asia. Fino a quel momento erano stati trovati tre falangi e un paio di denti in una grotta vicino a Novosibirsk, in Siberia. Erano riusciti a trovare, a estrarre il DNA, e avevano scoperto che il DNA di questo uomo è diverso dall'uomo di Neandertal ed è diverso dall'uomo sapiens, l'ennesima specie del genere Omo. Non solo hanno trovato dei geni dell'uomo di Denisova in Nuova Guinea. Allora, figuratevi il quadro. Esce l'uomo sapiens dall'Africa 75.000 anni fa. Si trova davanti due continenti, considerando l'Europa un continente, in cui c'è da una parte Neandertal, dall'altra, nella parte centrale, l'uomo di Denisova e se la fa con tutti. Ci si divertiva molto a quel tempo, ovviamente. Una parte dei geni dell'uomo di Neandertal è rimasta diciamo in europei asiatici. Una parte dei geni dell'uomo di Denisova è rimasta negli asiatici dell'est. Sembra inoltre che l'uomo di Denisova non fosse una specie sola. A un ultimo conteggio, ah, l'ultima cosa di tre settimane fa, hanno scoperto un altro metto in un'isola delle Filippine, l'uomo luzonensis. Da un ultimo conteggio ci sono almeno dieci specie appartenenti al genere uomo. Se non ho fatto male i conti. Probabilmente ce n'è qualcuno in più, qualcuno mi ha detto. Tra l'Europa e soprattutto l'Asia ci sono un bel po' di specie del genere uomo. Vi lascio a questo punto con una domanda. Finiamo la rassina stampa con una domanda. Vediamo se è quella che voglio fare io, se no te la faccio dopo. Sì, ok. È una domanda che, forte della mia modestissima conoscenza di palantropologia, mi sento fare da un sacco di gente, soprattutto dai miei colleghi, soprattutto dal mio direttore, e ho risposto in un modo solo, ma forse non è il caso che risponda così in questo modo. La domanda è, visto che ci sono tutte queste specie di uomo, perché siamo avanzati solo noi? Perché tutti gli altri sono morti e noi siamo arrivati a dominare l'intero pianeta? La risposta è fortuna. Stavo dicendo qualcos'altro, ma secondo me è fortuna. Diciamo che sto studiando il tema e prima o poi qualcosa mi verrebbe da scrivere, però vi lascio con questa domanda. Andate e studiate. L'anno prossimo ci vediamo qua e cercheremo di rispondere a questa domanda. La sua domanda? No, ti richiederebbe una risposta, se c'è tempo. Sì, come no, certo, abbiamo tempo. Allora, premetto che se dico... Allora, va bene, se volete andare vi lasciamo andare. Allora salutiamo il professor Vineis, il dottor Carra, via. Ci vediamo. Vi raggiungiamo poi là. Vi raggiungiamo là. No, la mia domanda, tu sai che a medicina non si studiano queste cose, che io quello che so l'ho saputo ascoltando te qua e là. Il profeta. Mi chiamano il profeta. Se dico cavolate, perdonami. D'altra parte, come sapete, questa rassegna si doveva chiamare la bionda, il secchione. Quindi, se faccio una domanda da bionda, perdonami. Ma sono io la bionda. Eh, lui insiste che è lui la bionda, vabbè. Allora, la domanda è, ma questo uomo di Neandertal, eccetera, tutti questi altri tipi, venivano comunque da un'origine comune in Africa e sono partiti prima dall'Africa e poi dopo, eh? oppure si sono selezionati lì? Allora, l'uomo di Neandertal probabilmente discende da un'altra specie di uomo che si chiama Omaidelbergensis che era in Africa e in Europa e si è estinto quando era in Europa. Ma era in Europa nel senso che si è selezionato lì? Si chiama Iidelbergensis perché l'ha trovato vicino a Heidelberg. Quindi ci sono stati diversi... Il primo uomo che è uscito dall'Africa un milione e duecentomila anni fa, 300 mila anni fa, forse un po' di più, è l'uomo Erectus che è arrivato in Asia, ha invaso letteralmente l'Asia e probabilmente, dico le cose più classiche, si è dall'uomo Erectus sono derivati un paio di altri... A parte il fatto che in Africa si chiamava Ergaster, non Erectus, grazie, ma corretto. Si chiamava Ergaster e quando è uscito si chiamava Erectus. Sono derivati quei due ometti piccolini, cioè l'uomo Luzonensis di cui parlavamo prima è l'uomo Floresiensis che sta su un'altra isoletta. È molto probabile che su altre isolette sempre da quella zona si trovi un'altra specie di uomo. Comunque è uscito l'uomo Erectus, si è diffuso, poi dall'Africa è uscito Homo sapiens che è derivato da... Non si sa. Non si sa. forse 300 mila anni fa, forse 250 mila, forse un po' meno, forse un po' di più e ha, come dicevo prima, spiazzato tutti gli altri. Non attivamente, probabilmente, ma in ogni caso li ha sostituiti. Tutto qua. Va bene. Sull'aspetto dell'origine comune, alcune cose interessanti. Ci sono perché addirittura troviamo però addirittura incroci, troviamo traccia nel DNA umano di uomini antichi che non sappiamo neanche cosa sono. Quelli africani. Esatto. E una delle cose che manca oggi per dare una risposta completa sarebbe i DNA antichi africani. Sì. Perché noi adesso facciamo il confronto tra i DNA antichi e quelli degli africani ma i DNA antichi degli africani non li abbiamo. Certo. E quindi abbiamo un buco di dati. E Lucy era quella da un milione erosi? Sì, Lucy è un astralopiteco, non era un uomo. Era una roba ancora ancora precedente. Va bene, volevo aggiungere una cosa? Una battuta. Volevo sapere se la vera domanda è ma tutti questi questa gente qua li mangiavano i legumi? Secondo me no, ovviamente. E quindi si sono spiegati questo. Volevo spezzare una lancia. No, 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 è una bella domanda. No, è bella. Che dovevo fosse scema. Mangiavano un sacco di cose. Mangiavano un sacco di cose. Avevano una dieta sicuramente migliore della nostra. Quindi tenete conto voi che dovete fare le ricette di Masterchef che... Chi? No, i ragazzi. Cosa c'entra con Masterchef? Perché loro fanno scienze gastronomiche. Scienze gastronomiche? Sì. Fantastico. Eh... Ma mettete il sale nel... Ah no, non c'è bresset. Dai, vai avanti, vai avanti. No, secondo me i legumi non li mangiavano perché sono stati addomesticati qualche tempo dopo. Volevo suggerire però all'uomo sapiens moderno di mangiare più legumi e meno carne. anche riferendomi al discorso che faceva. I legumi sostituiscono la carne quindi non li mangiate come al posto della pasta o del pane mangiatele al posto della carne che fa bene a voi e al pianeta. Con questo consiglio che va sempre bene sempre e comunque noi chiudiamo la rassina stampa di oggi vi ringraziamo ancora una volta perché io sono letteralmente sconvolto dalla presenza di affezionati sono molto contento devo essere sincero sono molto contento di come sono andate queste giornate il resto della giornata fino a stasera sarà altrettanto interessante molto più interessante delle mie chiacchiere ovviamente delle mie in particolare andate un piccolo spazio pubblicità vadi vadi allora le 11 e mezza io sarò invece in piazza no dove sarò allora c'è stato un problema perché una macchina ha centrato il gazebo di piazza Lombattista Alberti e quindi usate meno macchine questo è un esempio esatto e quindi tutti gli eventi almeno della mattinata finché non cerchiamo di capire se riusciamo a metterlo in sicurezza si spostano in Sant'Agnese Sant'Agnese che io non sono di Mantua e quindi non ho più quale idea di dove sia ma se c'è un mantovano che dice dov'è Sant'Agnese comunque via Sant'Agnese via Sant'Agnese 10 Bertacchi che è di Milano allora io ci vorrei dire perché qua siamo in un ambito scientifico e c'era la giornata antisuperstizione venerdì e tutte queste cose qua però questo evento che io diciamo ho proposto agli organizzatori che è contro i disturbi del comportamento alimentare è stato funestato da diversi eventi nel senso che il professor Vicari ha avuto un inconveniente all'ultimo minuto e non è riuscito ad arrivare da Roma adesso ci crolla addirittura il gazebo vabbè non dico niente ma mangeremo molti legumi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti